Buona giornata a tutti, oggi ci concentreremo nel prossimo incontro di Cristiano Studios e abbiamo detto, l'altra volta proseguiremo il lavoro sulle sinfonie allegre dopo questo lavoro, questa è una cosa un attimo di introduttiva, prima di iniziare volevo fare delle comunicazioni importanti allora, prima di tutto il fatto che questo è il mio ultimo video temporaneamente, cioè in questa fase questo perché, essendo uno studento universitario, come vi ho detto, ho deciso di aspettare a proseguire dopo questo video proprio perché adesso sarà periodo di esami e dato che vorrò tentare il prima possibile di laurearmi alla triennale di lettere ho deciso, proprio nei periodi di esame, di non fare video per cui nel periodo di giugno e prima parte di luglio non farò sicuramente nulla proseguirò sicuramente dopo la prima metà di luglio iniziando dai classici Disney, iniziando a parlare un po' della strutturazione di Disney e poi iniziare proprio in modo specifico da Biancaneve andando poi avanti e inoltre poi, a parte questo lavoro sui classici ho pensato che farò altri lavori che poi ne parlerò successivamente a parte quelli che ho già introdotto nel primissimo video di introduzione allora, noi quindi adesso possiamo iniziare allora, noi quindi ci trovavamo con le sinfonie allegre avevamo terminato di vedere il cappuccetto rosso che abbiamo visto in realtà corrisponde a un sequel alle tre porcellini e oggi quindi proseguiremo dal 34 perché ci sono altre cose da dire del 34 e arriverò fino al 39 in più, a parte questo ho deciso di accennare anche ad altre sinfonie allegre diverse da quelle su cui mi focalizzerò meglio che comunque sia, secondo il mio punto di vista sono sinfonie allegre di interesse che a me hanno interessato detto questo, quindi iniziamo allora, la prima sinfonia allegre che vedremo oggi è la gallinella saggia del 34 la ricordiamo prima di tutto perché riprende anch'essa un raffiabbo un racconto popolare questa volta di origine russo un racconto russo che vede pubblicato negli Stati Uniti in una raccolta del 1911 quindi molto probabilmente Walt Disney era a conoscenza di questa sinfonia di questa fiabba e la regia è stata affidata in questo caso a Wilfred Jackson ok? a Wilfred Jackson detto questo aspetto che era un aspetto importante da dire dobbiamo dire che è molto importante questa sinfonia allegra anche riguardante il mondo di Topolino perché qui troveremo la prima rappresentazione di uno dei personaggi cruciali del mondo di Topolino che è anche uno dei migliori amici di Topolino e cioè Donald Duck cioè in italiano Paperino troviamo infatti qui la prima rappresentazione di Paperino come, non come protagonista principale ma come personaggio sì importante ma secondario rispetto al personaggio principale che in questo caso è rappresentato da questa gallinella rossa allora intanto dobbiamo dire che qui anche qui c'è una libera interpretazione che tuttavia non è un'interpretazione libera così ampia come abbiamo potuto riscontrare in alcune sinfonie allegre del nostro primo incontro sulle sinfonie allegre infatti qua troviamo un collegamento tra la fiabba originale e la sinfonia allegra perché entrambe parlano possiamo dire di questa gallina che coltiva il grano nessuno alla fine la aiuta e quando la gallinella va a chiedere a coloro che ha chiesto una mano se volevano mangiare il raccolto tutti alla fine diranno di sì ma la gallinella deciderà in pratica di non dar nulla perché nessuno l'ha aiutata e quindi proprio perché aveva lavorato con le sue singole forze deciderà di mangiare il racconto tutto da solo queste un po' complessivamente le trame sia della sinfonia allegra sia del racconto originale ma adesso però iniziamo il confronto tra i due allora dobbiamo dire intanto che nella fiabba originale troviamo proprio questa gallinella rossa che razzolavano il coltile per caso trova per terra un chicco di grano e deciderà di volerlo piantare quindi chiederà agli animali della fattoria tra cui un'anatra quasi parla di un gatto e anche di un cane se proprio voleva aiutare volevano aiutare questa gallinella a piantare questo chicco di grano i tre diranno di non poter del fatto che non potevano aiutarla e così quindi la gallinella deciderà di andare da sola a piantare questo chicco piantato questo chicco di grano questo chicco di grano diventa grano questo chicco diventa un grano biondo e molto rigoglioso e quindi la gallinella chiederà agli animali proprio a questi tre animali della fattoria abbiamo detto l'anatra il gatto e il cane di aiutarla proprio a compiere la mietitura cioè a prendere il grano i tre sempre gli diranno di non aver possibilità di farlo e quindi la gallinella anche qui lo farà da sola poi chiederà agli altri animali questi tre animali sempre successivamente la gallinella se potevano aiutarla nella trebbiatura anche qui però gli animali i tre animali gli daranno picca ok? e alla fine dopo aver fatto la trebbiatura farà la farina con la farina la gallina deciderà di fare il pane quindi chiederà agli animali sempre se avevano intenzione di aiutarla per fare il pane anche qui gli animali i tre animali rifiuteranno questa proposta e quindi la gallinella farà il pane farà il pane fatto il pane chiederà a tutti chi vuole mangiare questo pane che ho appena fatto tutti a quel punto inizieranno a dire di sì che volevano mangiare un pezzo di pane ma la gallina gli dirà no perché questo pane l'ho fatto io e quindi me lo mangio tutto io ok? adesso vediamo la sinfonia allegra questa è la fiabba originale in modo ben delineato adesso vediamo la sinfonia allegra la sinfonia allegra presenta questa gallinella che questa volta non ha un solo chicco di grano ma ha più chicchi di grano quindi non troviamo questo cortile dove la gallina trova il chicco ma la gallina ha molti chicchi di grano con un campo molto ampio da coltivare e al suo fianco troviamo i pulcini dove nella fiabba non se ne parla assolutamente quindi la gallinella va prima dal maiale Peter per chiedergli aiuto a piantare il grano Peter tuttavia gli dirà che non poteva perché aveva il mal di pancia farà finta di avere il mal di pancia inizierà a lamentarsi in modo molto anche esagerato facendo credere alla gallina di avere il mal di pancia la gallina quindi capito avendo capito il messaggio continuerà per la sua strada e andrà proprio dal famoso Paperino per chiedere l'aiuto anche qui Paperino darà anche lui una scusa dicendogli proprio da avere il mal di pancia quando in realtà sia lui ma precedentemente anche il maiale Peter stavano cantando ballando divertendosi a quel punto la gallina pianterà il grano grazie all'aiuto proprio dei pulcini arando il campo poi richiudendo i vari buchi dove intanto la gallina metteva il grano e così crebbe queste piante che qua in questo caso non è il grano cioè le spighe ma sono le pannocchie ecco qui è un aspetto importante ok a quel punto quindi arrivate le pannocchie la gallina chiederà proprio prima Peter e poi sempre a Paperino di aiutarla a cogliere il grano in pratica appena maduro e due avranno sempre la scusa di avere il mal di pancia e la gallina capendo capendo che in realtà era una loro scusa deciderà di compiere un po' siamo non una burla ma comunque sia un qualcosa per farli pentire delle loro scelte infatti la gallina porterà tutte queste pannocchie poi a casa grazie all'aiuto dei pulcini e inizierà a cucinarle qua in questo caso farà molte cose nella fiab abbiamo visto c'era stata la metitura la trebbiatura poi la farina da cui ho avuto la farina e poi dalla farina si è fatto il pane in questo caso invece troviamo varie pietanze realizzate dalla gallina troviamo ad esempio muffin troviamo delle torte troviamo delle zuppe e anche delle pannocchie cotte con il burro sciolto cioè quindi troviamo qui varie pietanze a quel punto la gallina dopo aver preparato tutto uscirà fuori dove intanto Peter il maiale Peter e Paverino stavano ancora divertendosi la gallina chiederà loro se volevano venire a pranzo e i due velocemente si fionderanno davanti la porta a quel punto la gallina darà loro una ciotola coperta da un panno possiamo dire e i due appena misero a terra la ciotola e aprirono il panno videro una sorta di bottiglia d'olio e quindi i due rimarranno fregati anche se fregati non è bello da dire ma comunque rimarranno buggerati proprio dalla gallina che intanto stava con i pulcini a mangiare tutto quello che avevano realizzato e così vediamo il finale con Peter e Paverino che iniziavano a tirare calcio a vicenda questa è un po' genericamente la sinfonia allegra della gallina e la saggia in relazione alla fiabba originale quindi troviamo una rappresentazione un'interpretazione libera comunque sia in molti aspetti rispetto alla fiabba originale tuttavia non è un'interpretazione così libera come è stata nel Paese delle Fate come lo sarà nel Topolino e la Fata il Topolino e la Fata invece riprende un racconto che in realtà quando io l'ho visto mi sembrava più una poesia di Jean Fontaine di Fine Seicento il cui titolo è La ragazza vestita con le penne di pavone proprio perché ha una brevissima durata ho deciso di leggere questo raccontino ok quindi fa così si narra che una gazza trovati un giorno d'un pavone le penne con arte intorno a sé le accomodò a far mostra di sé e quindi la pazza con aria di persona alta e solenne per cortile tra i pavoni andò ma conosciuta ad un tratto ecco la fischiano l'insultano l'incalzan l'ambeffeggiano la beccan la spennacchian mezza morta fra le sue pari allora scappa la misera che in faccia ora le chiudono la porta oh quante sono le gazze come questa al mondo che altrui penne si vestono che dei plagiari formano la casta potrei scaldarmi contro l'or la testa ma ciò che ho detto basta allora questa è la piccola opera lettere il piccolo raccontino il piccolo estratto il piccolo raccontino che Walt Disney ha ripreso per realizzare il topolino e la fata già il titolo ci fa capire come in realtà i due cioè i due i due racconti sono diversi sono completamente diversi intanto dobbiamo dire che in questo caso la regia cambia cioè non è più Wilfred Jackson in questo caso il regista ma sarà David Hand che sarà un altro importante regista non solo di Sinfonia Allegra ma anche dei classici poi vedremo quando meglio vedremo i classici il topolino e la fata quindi è una Sinfonia Allegra che riprende un'opera di Jean Fontaine di cui però si parla di una gaza mentre invece qua già dal titolo vediamo che si parla di un topolino con una fata è un qualcosa un po' diverso ma comunque sia è qui l'interpretazione secondo me più libera tra le Sinfonie Allegre che ho analizzato perché qui troviamo quindi nell'opera che è stata ripresa per la Sinfonia Allegra troviamo questa gaza che vide le penne di pavone iniziando quindi a mostrarle tentando proprio di tenerle con arte intorno a sé le accomodò cioè le posizionò intorno a sé facendo finta di essere un pavone un pavone e tutte le gazze riconosciute riconosciuta la gaza che indossava queste cose di pavone iniziarono a deriderla proprio perché faceva finta di essere un pavone e quindi la gaza alla fine si troverà mezza morta dopo che l'avevano sbeppeggiata incalzata insultata ok l'hanno beccata spennecchiata e così via la sinfonia la sinfonia allegra riprende in parte cioè non il contenuto della vicenda ma gli aspetti della vicenda troviamo infatti nella sinfonia allegra la trama di questo topo questo topolino fratello di cinque che stavano fuori l'aria aperta con la madre la madre che stava proprio facendo il bagno e stava vestendo in modo molto elegante questi topolini infatti troviamo tutti e cinque che erano molto eleganti e questo topolino che era vestito di rosso che aveva un papillon come in realtà avevano gli altri tre maschietti mentre l'ultimo che era più piccolo era in realtà una femminuccia questo topolino col vestitino rosso vedeva su un ramo di albero un gruppo di uccelli che si sta che mostravano le loro grandi abilità nel volo il topolino quindi vedendo entusiasta questo spettacolo decise di voler imparare a volare tuttavia essendo un topo naturalmente non poteva volare quindi vediamo nel racconto originale di Jean Fontaine la Gaza vuole imitare un pavone cioè vuole far finta di essere un pavone nella sinfonia allegra il topolino vuole far finta di essere un uccello e infatti tenterà di prenderà due foglie e le metterà in mezzo alle braccia per far finta di essere delle ali tenterà di volare ma non riuscirà nel suo intento e anzi poi per sbaglio cadrà in picchiata e farà cascare tutta l'acqua della vasca tutta l'acqua della vasca alla fine dopo due tentativi perché nel primo tentativo cadde in mezzo a uno stagno i tre fratelli lo derisero mentre nel secondo caso troviamo questo topolino che cadde in questa vasca con il vestitino della più piccola che era pronta e che si era possiamo dire quasi rinsicchito proprio per via della quantità d'acqua presente la madre arrabbiata gli tirerà gli scoppoloni tramite la coda del piccolo è una cosa un po' qui fantasiosa alla fine quindi il piccolo farà cadere le prime lacrime e sarà molto triste perché non aveva realizzato il suo sogno ma ma tutto non è perduto perché il topolino vedrà una farfalla che stava per essere mangiata da un ragno che era intrappolata il topolino scaccererà il ragno e libererà la farfalla che poi in realtà si rivelerà essere una fata bellissima una fata che secondo me riprende molto la fata turchina di Pinocchio ma questo lo vedremo meglio più quando faremo Pinocchio detto questo dobbiamo dire quindi che questa fata proprio perché il topolino l'aveva aiutata deciderà di dargli la possibilità di realizzare un sogno il topolino gli dirà di voler essere un uccello la fata gli dirà ma tu sei un topo ma tu sei un topo non puoi volare ma comunque sia deciderà di acconsentire e quindi la fata trasformerà questo topo in una sorta di uccello cioè non è che lo trasformi in un uccello gli darà le ali che sembravano più quelle di un pipistrello che quello di un uccello e quindi andrà nel ramo in cui c'erano tutti gli uccelli inizia e tenterà di esibirsi ma tutti sdegnati proprio perché il topo rimaneva sempre un topo che aveva un qualcosa che non doveva avere e cioè le ali abbandoneranno questo albero questi rami di questo albero che era un albero in realtà un po' spoglio a quel punto il topo tenterà di andare dalla sua famiglia per farsi vedere con le ali ma i suoi familiari pensando che fossero un predatore perché videro la sua ombra molto grande cioè non videro il cielo ma videro l'ombra spaventati e entrarono in casa il topolino tenterà di farsi riconoscere senza riuscita perché la madre inizierà a lanciargli tutto mattarelli secchi cose così per scacciarlo e quindi il topolino con queste ali deluso scapperà nel bosco più inaltrato entrando in una grotta dove c'erano pipistrelli che anche loro inizieranno a deridere il piccolo che quindi era molto amareggiato deluso triste proprio perché anche se aveva realizzato il suo sogno non veniva accettato da tutti da coloro che in realtà lo amavano cioè da sua famiglia soprattutto perché aveva le ali a quel punto piangendo riapparve la fata e quindi il topolino chiederà alla fine alla fata di liberarlo dal suo dalla sua magia cioè di togliergli le ali la fata quindi a consentirgli toglierà le ali e il topolino di notte tornerà a casa ormai era notte tornerà a casa dove abbraccerà la madre che sarà contenta di aver trovato il figlio così termina questa sinfonia allegra anche qui come nella gallina della saggia i dialoghi sono molto pochi come anche abbiamo visto un po' anche nei tre porcellini i dialoghi ci sono ma nelle sinfonie allegre complessivamente i dialoghi nel parlare non sono tantissimi come invece saranno preponderanti nei classici le sinfonie allegre abbiamo detto si basano tutto su un motivo musicale infatti si chiamano sinfonie ok quindi questo è il topolino e la fata successiva la lepre e la tartaruga ecco qua secondo me è una delle più importanti cioè io direi prima i tre porcellini primo posto secondo la lepre e la tartaruga non c'è nulla da dire allora intanto dobbiamo dire che la lepre e la tartaruga è del 1935 quindi anno successivo a i vari la gallina e la saggia il topolino e la fata e anche cappuccetto rosso ad esempio e così via il negozio di porcellaci che era la formica questa sinfonia allegra venne realizzata anche qui da Wilfred Jackson quindi colui che aveva realizzato la gallina e la rossa ok la gallina e la rossa dobbiamo dire che in questa sinfonia allegra riprende si riprende la favola famosa favola di Esopo quest'autore greco nella favola di Esopo c'era questa tartaruga e questa lepre e questa tartaruga questa squadra della lepre che dirà che io sono l'animale più veloce del bosco la tartaruga alla fine e si rivolgerà in modo particolare alla tartaruga dicendogli che tu invece sei così lento che vincerebbero contro di te qualsiasi animale alla fine tra i due ci sarà una sfida di corsa la lepre quindi sfiderà la tartaruga perché la tartaruga a sua volta aveva sfilato la lepre e quindi iniziò questa corsa iniziò questa corsa con la lepre che partì nettamente in vantaggio scattando come un fulmine ma vedendo che la tartaruga era così lontana deciderà di non vincere stracciando il suo avversario e quindi deciderà di fare un pisolino la lepre dormiva così profondo che alla fine non si era ancora svegliata la tartaruga continuò il suo percorso sorpassò la lepre ed era sul punto di arrivare al traguardo e la lepre quando si accorse del fatto che il suo avversario era già arrivato era troppo tardi tentò di raggiungerlo ma nell'ultimo istante la tartaruga alla fine riuscì a vincere la gara nella sinfonia allegra c'è un qualcosa di più completo cioè la favola di Esopo tutte le favole di Esopo sono feabbe molto brevi e infatti troviamo qui non pochi particolari pochi pochi aspetti proprio narrativi nella sinfonia allegra si parte da un momento diverso rispetto alla fiabba la fiabba abbiamo visto parte dalla lepre che sfida tutti gli animali dicendo che io sono la più veloce poi sfiderà la tartaruga la tartaruga non si scomporrà dicendogli che intanto lei arrivava fino alla fine del prato e la lepre alla fine lo sfiderà e inizierà la corsa nella sinfonia allegra la sinfonia allegra inizia proprio dalla corsa cioè quindi non c'è tutto questo preambolo precedente si parte proprio dal fatto che la lepre e la tartaruga avevano organizzato questa corsa questa sfida e quindi rientrarono la lepre in modo trionfale mentre la tartaruga quasi derisa con nessuno che non aveva scommesso sulla tartaruga la vittoria della tartaruga alla fine quindi lo starter colui che fa iniziare la corsa sparò un colpo di pistola che nell'atletica leggera attuale è il segno del segnale proprio all'inizio delle corse d'atletica quindi la lepre partì veloce come un razzo mentre la tartaruga si era spaventata al colpo e non era partita alla fine poi partì in sé poco dopo la lepre vide che era così lontana dalla tartaruga che decidera di schiacciare un pisolino e la tartaruga continuò in questo caso della sinfonia allegra però appena la tartaruga aveva passato la lepre la lepre si era già svegliata nella fiaba abbiamo visto la lepre dormì soltanto cioè dormì appena se sei conto che era già molto avanti aveva deciso di fare un pisolino la lepre continuò a dormire nella sinfonia allegra la lepre si sveglierà in modo più immediato appena la tartaruga lo sorpassò a quel punto la lepre ripartì come un razzo vediamo nella sinfonia allegra il fatto che quando passava la lepre veloce si muovevano gli alberi cascavano le foglie ad esempio venivano quasi spennati gli altri animali appena la lepre quindi passò la tartaruga vide cioè si imbatté in una scuola di conigliette che chiamarono la lepre a direttarle a farle divertire a quel punto passò la tartaruga e le quattro conigliette gli diranno perché non vieni qui a divertirti anche tu la tartaruga rifiuterà e continuerà la corsa intanto la lepre che era certa la vittoria deciderà di iniziare a dilettare queste quattro conigliette che gli chiederanno ma non devi andare a terminare la corsa la lepre gli dirà non c'è problema tanto ci metto un attimo a raggiungere il mio avversario e quindi inizierà a fargli vedere a queste conigliette le sue grandi doti negli sport ad esempio nel tiro con l'arco nel baseball nel tennis e quando fece vedere le sue ultime grandi doti nel tennis vide che ormai la tartaruga era sul punto di arrivare a quel punto salutò le colignette e iniziò a correre come un razzo ma proprio all'ultimo istante la tartaruga allungò il suo collo e riuscì a vincere la corsa con la lepre che quindi rimase sconfitta mentre la tartaruga iniziò ad essere acclamata e gli venne reso omaggio da tutti gli altri animali del bosco questo quindi è la lepre la tartaruga che per me è molto interessante anche molto caruccio da vedere come sinfonia allegra della lepre la tartaruga naturalmente non ci furono sequel però secondo il mio punto di vista la lepre la tartaruga è insieme ai tre porcellini la miglior sinfonia allegra della Disney poi questa è una mia interpretazione ognuno può dire no per me è meglio che ne so la carina la saggia o qualsiasi della sinfonia allegra per me queste due sono le migliori dopo la lepre la tartaruga arriviamo al cugino di campagna questa sinfonia allegra venne realizzata nel 36 venne realizzata nel 36 la regia anche qui è di Wilfred Jackson in questo caso troviamo la rappresentazione di questo topo di campagna nella sinfonia allegra che viene invitato dal suo parente di città a venire a casa sua quindi il topo di campagna accettò molto volentieri e partì in città intanto dobbiamo dire che proviene questo tutto da una fiaba di esopo che come anche nel caso della lepre la tartaruga c'è sempre si presenta nella fiaba un preambolo che nella sinfonia allegra non è presente vedremo meglio dopo la fiaba adesso stiamo vedendo quindi la sinfonia allegra quindi arrivato in questa città arrivò nell'indirizzo segnato dal topo di città e quindi il topo di campagna inizia a bussare con il suo ombrello alla porta principale alla porta proprio della casa degli uomini il topo di città uscirà da una porticina in basso a destra e pregherà al topo di campagna di fare silenzio questo gesto del tentare di fare silenzio verrà realizzato dal topo di città più forte quindi il topo di campagna entrò nella casupola del topo di città ed è dalla casupola del topo di città entreranno poi nella casa degli uomini dove proprio era presente un ampio banchetto dove non c'era ancora nessuno il topo di campagna però a un certo punto vide un po' di formaggio che in realtà era legato ad una trappola le trappole quelle adesso non mi ricordo come si chiamano comunque sia costituite da una tavola che c'è tipo un pezzo di ferro che appena viene preso l'esca scatta e schiava e ammazza in pratica la presa cioè un animale che vuole essere catturato è una trappola classica per topi il topo di città quindi rendendosi conto che una trappola impedirà al topo di campagna di prendere quel formaggio facendogli vedere poi questo enorme banchetto e inizieranno lì a mangiare a sazietà tuttavia il topo di campagna faceva così tanto rumore che il topo di città che pregherà più volte di fare silenzio momento cruciale però durante il banchetto ci sarà quando il topo di campagna mangerà un po' di mustarda che essendo così piccante inizierà a a far male cioè inizierà proprio a bruciare alla gola il topo di campagna che per caso troverà un bicchiere con dentro qualcosa di liquido che in realtà è il champagne bevendosi lo champagne un bicchiere normale di champagne il topo essendo anche molto piccolo si possiamo dire ubriacherà e inizierà a non a delirare ma comunque si a compiere azioni strane ad esempio si vedrà quando si trova di fronte un budino con una sua immagine quando troviamo un budino la maggior parte dei casi notiamo molto che l'immagine riflessa quasi come se fosse uno specchio nella sinfonia lega come lo sto parlando non in realtà quindi inizia a fare un po' di gesti e successivamente però facendo qualche passo indietro per sbaglio inciampa in una leccornia e finisce un piatto che inizia a ruotare prenderà anche il topo di città e tutti i piatti si romperanno si romperanno provocando paura al topo di città che aveva paura del fatto che venisse scoperto dagli uomini a quel punto il topo di campagna il topo di città videro addormentato lì vicino il gatto di casa il topo di campagna tenterà in modo non autoritario ma comunque sia in modo molto altezzoso di dare una lezione a questo gatto tirandogli un calcio il topo di città spaventato scapperà dalla sua casa chiudendo la serranda e il gatto inizierà a rincorrere il topo di campagna che alla fine riuscirà a fuggire dalla casa ma si troverà nel caos cittadino caratterizzato dalle persone che si muovevano senza sosta dalle macchine che li passavano e alla fine il topo di campagna dopo varie peripezie nel senso di dopo vari pericoli sventati alla fine tornerà nel luogo nella ferrovia nel binario da cui poi era partito tutto il film e tornerà nella sua vera casa che era la campagna questa è la sinfonia allegra nella favola di esopo troviamo tutto un preambolo cioè del fatto che un giorno proprio il topo di campagna invitò il topo di città a venire nella sua dimora iniziando a mangiare quello che passava nel convento lardo e fagioli ok lardo fagioli pane formaggio il topo di città iniziò a rivelare al topo di campagna queste cose non sono per noi io mangio cose cento volte meglio e quindi inviterà il topolino di campagna a venire alla sua dimora e così quindi i due topolini dopo aver finito dopo questo dialogo partiranno e andranno nella casa del topo di città dove il topo di città proprio si mostrerà proprio al topo di campagna il fatto che c'erano degli avanzi di un ricco banchetto e quindi iniziarono a mangiare arrivati nella sala da pranzo iniziarono proprio a terminare a mangiare molto di questo banchetto e troviamo quindi degli ululati proprio non degli ululati degli abbari ok il topo di campagna si spaventò e chiederà il topo di città che cos'è questo rumore il topo di città gli rivelerà il fatto che erano i cani di casa il topo di campagna rimase spaventato e appena i due cani entrarono il topo di campagna scapperà da casa il topo di città gli dirà ma te ne vai già il topo di campagna gli dirà si me ne vado preferisco mangiare lardo formaggio fagioli e pane e a stare tranquillo che mangiare dolce e marmellate ma ad essere rincorso in continuazione e stare qui di sempre allerta un aspetto che devo anche dire adesso sulla sinfonia allegra è il fatto che nella sinfonia allegra non ci sono voci quindi in questo caso è un po' un pazzo indietro ok rispetto alle altre sinfonie allegre ultima sinfonia allegra che analizzerò in una certa maniera poi dirò altri in modo molto generico che non riguardano solo quelle 34 e 39 ma anche qualcuna precedente in caso è il piccolo diseredato che è l'ultima della sinfonia allegra quindi siamo l'ultima sinfonia allegra in assoluto realizzata nel 1939 del 1939 a parte questa ricordiamo Jimmy piccolo inventore che analizzerò tra poco perché parlerò anche degli altri secoli molto genericamente delle porcelline troviamo quindi nel piccolo diseredato la vicenda che riprende la fiabba di Andersen del brutto anatroccolo noi conosciamo il brutto anatroccolo di Hansen ne parlerò come anche farò per i Grimi e più tutti gli altri scrittori di letteratura per ragazzi in una lezione a parte in un incontro a parte più che lezione e il piccolo diseredato che realizzato dalla regia di Jack Cutting quindi un altro nuovo personaggio un altro nuovo personaggio presenta proprio la vicenda che riprende il brutto anatroccolo però in modo completamente diverso rispetto alla fiabba di Andersen nella fiabba di Andersen che è una fiabba di contenuto molto ampio cioè di avvenimenti molto ampio parla della storia del brutto anatroccolo adesso lo dico molto genericamente perché non voglio metterci troppo tempo perché in questo caso non è qualcosa di molto più lungo comunque si parla di questo in una fattoria di questa papera che avrà dei cuccioli dei figli ma tuttavia vedrà che un uovo era più grande degli altri e infatti si schiuderà dopo ed uscirà un pulcino completamente diverso dagli altri grande sul grigiastro e possiamo dire un po' più bruttarello rispetto agli altri paperotti a quel punto la papera inizierà a far conoscere la fattoria ai suoi figlioli anche al brutto natroccolo un po' più brutto degli altri e andrà nella corte dove tuttavia il brutto natroccolo inizierà ad essere sempre più deriso la madre tenterà più volte di difendere il piccolo dicendogli che comunque si era suo figlio che lo amava lo stesso e che era sicura che quando sarebbe andato grande sarebbe comunque diventato più caruccio non era a conoscenza il fatto che sarebbe diventato un cigno bellissimo ma comunque sia che sarebbe diventato un paperotto più bello una papera più bella ritenendo anche che essendo un maschio poteva essere normale forse il fatto che era un po' più grande degli altri però tutti comunque sia lo deridevano e anche proprio il cosiddetto re di corte inizierà a deridere questo natroccolo col passare del tempo la posizione del brutto natroccolo divenne sempre più poco poco piacevole questo anche perché anche i suoi fratelli iniziarono a deriderlo e il piccolo natroccolo tramordito e molto triste abbandonerà la fattoria inoltrandosi nel bosco dove incontrerà delle anatre le anatre selvatiche gli diranno all'anatroccolo che poteva rimanere però non avrebbe dovuto prendere moglie un giorno quindi un giorno quindi il brutto natroccolo entrò in contatto con paperotti del posto con anatre con piccoli con anatre del posto anche molto svelte che chiederanno al brutto natroccolo di andare con loro per trovare moglie perché in casa avrebbe potuto trovare la felicità all'anatroccolo non interessava avere una moglie in quel momento era l'ultimo dei suoi pensieri il suo interesse era solamente quello di essere accettato da tutti e di essere felice tuttavia però a un certo punto iniziarono a sentire degli spari erano i cacciatori del posto che spaventarono il piccolo anatroccolo che alla fine riuscirà a fuggire e fuggendo troverà una vecchia casa dove c'era presente una vecchia che accoglierà il piccolo con la speranza che avrebbe potuto fare delle uova ma essendo un maschio non era in grado di farle aspettò circa tre settimane senza riuscita e iniziarono iniziò ad avere rapporti anche con gli altri due animali della vecchia una gallina che faceva le uova e il gatto che invece faceva le fusa dove quindi sia il gatto che possiamo dire era l'uomo di casa e la gallina che era la donna di casa facevano per la vecchia un qualcosa cioè erano comunque sia utili il bruttanatroccolo non era in grado iniziò ad assaporare la voglia di tornare nello stagno di nuotare nello stagno nello stagno fuori la gallina gli dirà ma che cosa stai dicendo lascia perdere pensa piuttosto a imparare a fare le uova a fare le fusa il bruttanatroccolo non ci pensò due volte alla fine deciderà di lasciare la vecchia casa andando fuori andando fuori e lasciando la casa della vecchia della nonna uscito da questa casa iniziò a nuotare in questo lago in questo stagno dove entrò in contatto per la prima volta con dei cigni bellissimi che presero il volo proprio perché intanto stava arrivando l'autunno e anche l'inverno arrivando l'inverno il piccolo tentò di nuotare in una zona specifica dello stagno tentando anche di muovere un po' le zampe le ali i suoi piccoli allucce soprattutto per evitare che anche quella piccola parte di lago in cui lui nuotava congelasse alla fine per il troppo freddo congelò e anche il piccolo iniziò a morire di freddo qua iniziò quasi sul punto di perdere la vita tuttavia lì per caso passò un contadino che trovo il piccolo lo liberò dal ghiaccio e lo riportò a casa che proprio questo contadino aveva preso per renderlo possiamo dire compagno di giochi dei suoi piccoli figlioli che iniziarono immediatamente a rincorrere il brutto natroccolo che spaventato iniziò a rincorrere a scappare per tutta la casa compiando un vero e proprio disastro alla fine riuscì a fuggire da casa e si rifugiò nel cespuglio in un cespuglio fuori dove rimase per tutto l'inverno arrivata la primavera il piccolo uscì piccolo uscì è uscito vide proprio la bellezza della primavera ok iniziò a entrare in contatto la bellezza della primavera a quel punto il piccolo natroccolo vide dei cigni e iniziò ad avvicinarsi a loro e i cigni possiamo dire iniziarono quasi a prenderlo iniziarono a prenderlo in considerazione proprio perché il piccolo si accorse che era diventato grande e che era in realtà era un cigno bellissimo quindi dalla posizione di essere un anatroccolo che era deriso per la tua bruttezza divenne alla fine un cigno bellissimo e iniziò ad essere accettato da tutti i cigni del posto infatti anche i cigni più saggi della fiabba di Andersen inizieranno ad inchinarsi di fronte a lui e alla fine possiamo dire il giovane anatroccolo anzi il giovane cigno deciderà di rimanere con il suo gruppo di amici cigni e due bambini del contadino il contadino usciti dalla loro dimora vedranno proprio che era arrivato un nuovo cigno cioè il giovane il piccolo quello che era stato il piccolo ladroccolo e che era considerato il più bello di tutti e così terminò così termina la fiabba di Andersen nella sinfonia allegra troviamo invece una vicenda molto meno complessa e inoltre non troviamo il brutto anatroccolo che diventa cigno troviamo infatti la vicenda di una anatra del posto che avrà dei cuccioli con un'altra anatra maschio ma quando verrà fuori il brutto anatroccolo il maschio lo rifiuterà e lo stesso varrà per la madre che iniziò ad andare ad andare con i suoi piccoli il brutto anatroccolo inizierà a seguire la madre ma la madre lo rifiuterà e lo stesso inizieranno anche i quattro piccoli il piccolo anatroccolo sarà così deluso che lascerà che inizierà a bagare da solo troverà un nido di uccelli dove inizierà a divertirsi arrivò lì la madre con un lombrico che il piccolo anatroccolo tentò che prese tentò di mangiare ma la madre vedendo che c'era l'intruso tentò di riprendere l'ombrico e scacciò bacchettandolo sulla testa proprio il piccolo anatroccolo che alla fine arrivò in uno stagno dove c'era una sorta di papera che in realtà era possiamo dire un vero e proprio pupazzo cioè un che in realtà era inanimata il piccolo anatroccolo alla fine avendo nessuno conquistare e avendo visto già da prima il suo aspetto pian si addirotto perché non aveva nessuno che lo accettava a quel punto passò di lì un cigno bellissimo con i suoi cuccioli i cuccioli che iniziarono a considerare il loro il piccolo anatroccolo che era uguale a questi piccoli questi piccoli figli di questo cigno femmina che accetterà il piccolo anatroccolo come suo figlio e alla fine il piccolo anatroccolo ripeterà la sua famiglia d'origine che tenterà di rivolgere al piccolo anatroccolo l'attenzione ma il piccolo anatroccolo ricordando quello che ricordando il fatto che la madre non l'aveva accettato volterà la testa e andrà con la sua nuova famiglia in questo caso anche qui non ci sono dialoghi ma troviamo un mondo più animale che secondo il mio punto di vista sarà importante per quando si realizzerà Bambi ma questo è una mia ipotesi è una mia ipotesi che vedrò caso mai se si realizzerà quando si analizzerà come si deve Bambi che abbiamo detto il quinto che sarà il quinto classico Disney che farò detto questo quindi per le sinfonie allegre che devo analizzare ho terminato adesso ne ricordo altre che secondo me sono di interesse tra queste ricordiamo prima di tutto i tre orfanelli regia di David Hand realizzati realizzati nel 1935 di questi tre gattini che vennero abbandonati alla fine entrare in una casa fecero danni la domestica li prese e li tentò di cacciare di casa ma alla fine la bambina della casa pensò che deciderà di accoglierli e di tenerli con sé questo ad esempio per quel che riguarda i tre orfanelli altro anche ad esempio quelle delle festività ad esempio la festività pasquale con i coniglietti buffi con i coniglietti buffi del 1934 che fa vedere proprio come venivano realizzate le uova di pasqua dei conigli del posto in vari modi ma un altro interesse importante secondo me sono i tre moschettieri ciechi i tre moschettieri ciechi è del 1936 siamo te topi moschettieri fontissimi noi siamo anche se non ci vediamo nel 1936 regia e anche qui di David Hand come i tre orfanelli presenta questi tre moschettieri questi tre topolini che erano ciechi e che erano così abili anche se non ci vedevano e che davano grande cattacapo al al padrone di casa che era in realtà una somiglianza molto netta a Pietro Gambadilegno secondo me può essere proprio lui con vesti diverse rispetto allo Steamboat Willie alla fine Gambadilegno volendo catturare questi moschettieri ciechi metterà una serie di trappole per catturarli non ci riuscirà e i tre moschettieri ciechi inizieranno a banchettare a divertirsi tra tutto quel cibo lì presente e Gambadilegno rendendosi conto che c'erano lì tre moschettieri ciechi prese la sua ascia a due mani e tentò proprio di catturare i tre che alla fine riuscirono a farsi catturare grazie proprio ad una sorta di stratagemma cioè il fatto che il moschettiere più piccolo iniziò a non dico che si raffigurò ma comunque sia la sua immagine venne rinfacciata dalle varie bottiglie lì presenti fece credere a Gambadilegno che fosse un vero e proprio esercito di moschettieri ciechi e così Gambadilegno spaventato alla fine cadde in tutte le trappole che gli aveva piazzato e alla fine dovette scappare di casa e così alla fine i tre moschettieri ciechi si liberarono della sua presenza questa è un'altra sinfonia allegra a cui io sono stato legato nell'infanzia insieme poi anche segue il dei tre porcellini che a parte il appuccetto rosso vi ricordiamo i tre lupetti che parla proprio del fatto che il lupo insieme ai suoi tre figli catturerà i due fratelli minori che precedentemente avevano utilizzato un corno da utilizzare soltanto in caso in cui proprio arrivasse il lupo in caso in cui quindi c'era il lupo lì presente c'era il lupo lì presente e i due lo suoneranno per fare dei dispetti al al fratello maggiore che dire il fatto loro gli avvertirà che se il lupo li catturerà loro suoneranno quel corno lui avrebbe pensato che sarebbe stato uno dei loro scherzi i due quindi alla fine si imbatterono nel lupo cattivo che facendo finta di essere una pastorella riuscirà ad attirare a sé i due porcellini minori nella sua dimora a quel punto li catturerà e deciderà di volerli cucinare quasi possiamo dire a porchetta ma tuttavia il porcellino minore riuscirà a convincere prima uno dei tre lupetti e a sua volta poi il lupo a suonare il corno e il lupo suonando il corno provocherà una tromba d'aria fortissima che farà comprendere al porcellino il fatto che in realtà il corno era in quel momento nelle mani del lupo e quindi i due fratelli erano stati catturati al lupo perché prima che venissero catturati i due porcellini tentarono di suonare il corno ma il porcellino maggiore pensava che fosse un loro scherzo alla fine il porcellino maggiore portò con sé una sua invenzione l'ammansitore per lupi e alla fine riuscirà a dare una lezione al lupo e a salvare i suoi due fratellini ultimo sequel dei tre porcellini che venne realizzato nel 39 ed è la seconda ed ultima delle sinfoni alle che è il 39 perché nel 39 abbiamo soltanto due sinfoni allegre Jimmy piccolo inventore proprio il piccolo diseredato che abbiamo visto precedentemente in Jimmy piccolo inventore troviamo proprio la vicenda proprio di Jimmy che aveva realizzato una macchina la macchina della verità una sua quindi invenzione i due porcellini minori decideranno di andare a nuotare nello stagno ma nello stagno il lupo riuscirà ancora a catturarli tuttavia però deciderà di voler prendere quel terzo porcellino perché non era sicuro di volerli mangiare finché non aveva catturato il terzo porcellino maggiore così andò a casa sua gli inviò e gli diede una lettera portandogli dentro casa tramite un soffio che fece subito capire al porcellino il fatto era il lupo e quindi il porcellino rendendosi conto che i suoi due fratelli minori erano stati catturati dal lupo attivò la macchina della verità e dopo varie punizioni afflitti al lupo quindi sculaccià cose varie il lupo alla fine venne convinto a confessare al fatto che si trovavano nel vecchio mulino cioè nella sua dimora nella sua dimora quindi e quindi il vecchio il porcellino maggiore buttò fuori casa il lupo e andò a salvare i due porcellini minori che intanto grazie a un errore dei lupetti che non avevano seguito il padre del fatto che non dovevano mangiare non dovevano cucinare i due porcellini e soprattutto dopo che avevano fatto possiamo dire una serie di cose un po' particolari per cucinarli misero il pepe e due porcellini proprio perché il pepe normalmente può far sarnutire a causa del pepe sarnutirono così forte da far possiamo dire scacciare far cacciare proprio via lontano i tre lupetti e così due porcellini scapparono tornarono a casa dove abbiamo detto il fratello maggiore era riuscito a scacciare il lupo alla fine confessarono il fatto che non erano andare a nuotare quando in realtà era vero e così si attivò la macchina delle verità per loro ma poi il porcellino maggiore dicendo che questa punizione faceva più male a lui rispetto a loro anche la macchina delle verità si attivò anche nei confronti del porcellino maggiore questo sono i sequel dei tre porcellini parte cappuccetto rosso che ho analizzato nella prima parte del nostro incontro sulle sinfonie allegre e poi come ultimo ricordo il vecchio mulino che sarà molto importante da un punto di vista tecnico e che vedremo parzialmente quando vedremo Biancaneve allora io ho detto questo ho detto tutto con le sinfonie allegre mi fermo qui anche perché per me questo era un lavoro che doveva richiedere una quantità di tempo non troppo esagerata e la prossima volta quindi prima di tutto mi concentrerò sui classi veri e propri e poi su Biancaneve e poi inizierò con i classi veri e propri da Biancaneve abbiamo detto che il mio successivi lavori cioè proprio i prossimi video di Cristiano Studios rinizieranno da luglio a causa proprio dei miei impegni universitari a cui non posso naturalmente sottrarmi per cui grazie della vostra attenzione e buon proseguimento di giornata ci rivedremo nella metà di luglio grazie a tutti